Una folla oceanica si è riversata ieri sui sentieri di Valbondione per assistere alla terza apertura stagionale delle cascate del Serio. Dopo quella di luglio, avvenuta in orario serale ed abbinata al percorso enogastronomico, si è ritornati all'appuntamento classico della domenica. Come si diceva, la splendida giornata di sole ha richiamato migliaia di escursionisti che hanno riempito in molti parcheggi già dalle prime ore del mattino. Come sempre, le numerose associazioni di volontari del paesino seriano hanno coordinato il flusso di veicoli tra le vie del paese e nelle aree adibite parcheggio. Per i molti ritardatari non è restato altro da fare che posteggiare la propria auto ancora prima dell'ingresso in paese, con un ulteriore aggravio di strada per raggiungere l'imbocco del sentiero in località Grumetti o Beltrame. Stando alle segnalazioni delle stesse associazioni, alle 10.30 la fila di auto in ingresso al paese raggiungeva ancora il chilometro di lunghezza, allungandosi fin quasi alla località Dossi. Come ovvio a conseguenza, moltissimi turisti hanno raggiunto la zona dei grandi massi con notevole ritardo, quando ormai le paratie della diga del Barbellino erano state richiuse dai guardiani. Alle 10.50 il suono della sirena ha annunciato agli escursionisti che la massa d'acqua era stata liberata. Dopo un breve decorso in galleria si è presentata la sommità del triplice salto, precipitando a valle per i canonici 315 metri. Anche stavolta il percorso di salita più gettonato è quello che transita al borgo antico di Maslana, guadando poi il fiume Serio sul vecchio ponte in stile romano. Anche gli altri sentieri alternativi, quello del Curò e quello che transita alle vecchie miniere, sono risultati assai frequentati a dimostrazione delle migliaia di persone presenti che hanno raggiunto la zona di Maslana. All'orario di pranzo l'enorme alveo nei pressi del ponte di Maslana si è riempito di centinaia di persone che hanno approfittato delle gradevoli temperature per consumare il proprio pasto al sacco. Il prossimo appuntamento è ora fissato per domenica 19 settembre. In mattinata presso l'osservatorio florofaunistico di Maslana sarà l'occasione per parlare ancora di funghi grazie alla disponibilità degli esperti del gruppo micologico di Villadogna che risponderanno a tutte le domande e le curiosità degli escursionisti. L'ultimo appuntamento stagionale con le cascate del cerio è in programma per domenica 10 ottobre. A questo evento sarà legata la manifestazione della Fiera dell'Acqua con un programma che verrà reso noto nelle prossime settimane.